Bentrovati in una nuova puntata di Non sono favole di Barbara Banco. Io sono Marco Bignozzi, insieme a me Barbara Banco. Barbara, bentrovata. Bentrovato Marco, bentrovati tutti. La favola di oggi è particolare, è avvincente. Inizia così. C'era una volta la dichiarazione di dipendenza degli Stati Uniti d'America, ma è mai stata applicata? Caro Marco, è stata applicata? Sì. Allora, intanto siamo nel 1776, siamo al 4 luglio e è la dichiarazione di indipendenza che è più vicina alla legge naturale. In quella dichiarazione di indipendenza si sancisce la fine della schiavitù. È stata mai applicata? È stata applicata esattamente fino al 1871, perfezionata nel 1781, ma applicata fino al 1871, quando viene sostituita dalla Costituzione americana. Questa Costituzione però, ahimè, lascia fuori un articolo. In America si chiamano emendamenti. E il tredicesimo in particolare era quello che sanciva la fine della schiavitù, nonché alcune disposizioni per i presidenti degli Stati Uniti d'America. Bene, elegantemente nella Costituzione americana viene eliminato completamente. Perché? Perché la schiavitù non è mai finita, Marco. Questa dichiarazione di indipendenza lasciata lì, nel nulla, viene ripresa da tre trustee, una donna e due uomini, Eteran Tucci-Girraf, Caleb Paul Skinner e Randall Hollis-Inner, nel 2010, quando vengono incaricati, dopo il crack delle banche argentine, di fare un'indagine di mercato che sfocia in un Final Paradigm Report, un finale di indagine con una serie di prove sulla riduzione di schiavitù. Questi tre prendono la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, la ridepositano nel 2011, la ridepositano con un nome nuovo, il nome è The One People's Public Trust, 1776, il trust dell'unico popolo del 1776. E con questo, da quel Final Paradigm Report, quella indagine, viene depositata come prova di una denuncia internazionale. Dove viene depositata? In un pubblico registro. Il pubblico registro degli Stati Uniti d'America, che sono come corporation dentro la Security Exchange Commission, che è un contenitore di titoli e di transazioni internazionali. Tutta la procedura, che consta di qualcosa come 80 documenti, ha quasi bisogno di un anno e mezzo per essere depositata tutta e l'ultimo giorno disponibile, il 25 dicembre 2012, viene comunicato a tutti i partecipanti a questo contenitore, alla SEC, la denuncia e quindi l'obbligo per questi di rispondere a tutte le accuse presenti in denuncia. Chi c'era scritto lì dentro nel 2012? C'erano 194 paesi, in parvenza di stati, tra cui l'Italia, che entra, come dicevamo, a far parte di questo contenitore nel 1934, grazie al dicastero delle corporazioni di Mussolini, afferma Jung, e tutti e 194 sono rimasti in un doveroso silenzio. E per pagare l'ingresso alla SEC venne preso il famoso oro alla patria? Esattamente, nel 1934 l'ingresso dell'Italia dentro la Security Change Commission è sottostante all'esproprio dell'oro italiano e al pagamento di questo oro, che finisce in quel momento in un trust, che si chiama Trust Socarno, oggi Swissindo. Quindi grazie a questi tre procuratori, a inizio in realtà quella che per noi è la nuova favola, la nuova governance. Esatto, abbiamo bisogno di altre puntate per spiegarla tutta, ma la schiavitù è veramente finita, il 25 dicembre 2012. Grazie Barbara, grazie ai nostri ascoltatori, ci diamo appuntamento alla prossima puntata con Non sono favole di Barbara Banco. Ciao Barbara. Arrivederci Marco. Per approfondire questi argomenti, entrare nel dettaglio e scoprire tutte le realtà giuridiche, potrete visitare il sito noieiosono.com noieiosono.com Grazie.